Gradirei quattro fiori gialli, due blu e uno rosso. La specie non è importante, fai tu. Che ci fai qui? Se sei appassionato di fiori, perché sei a Londra? Per confondermi meglio. Eppure ti ho trovato. Perché mi hai cercato? Sei qui per i soldi, ti offrono una ricompensa. Davvero? Io non lo sapevo. Allora dovrò legarti a riscuoterla! Santo cielo, sei veramente ridicolo! Sono venuta qui perché io ho imparato ad apprezzarti e perché, a quanto pare, la tua vita è in pericolo. Cosa ti ha spinto ad apprezzarmi? Sul serio? È questa la tua domanda? Non chi vuole uccidermi. Ho trovato i fiori nel tuo libro. Erano molto belli, ma a me non importa niente dei fiori. Questo perché sei ignorante. Ignorante? Ma come osi? Ignorante e anche testarda. Potresti cambiare idea, ragazzo. Non sono un ragazzo. Sono un uomo. Sarai un uomo quando io dirò che lo sei. Comunque stavi meglio con i pantaloni. Mi sei mancata, Enola Holmes. Vorrei fosse così anche per me. Ma i fatti mi hanno costretta a cercarti. Ora andiamo. Ti avverto che siamo in serio pericolo. Grazie.